Pagani è una città pulita, lo dice con soddisfazione l'assessore all'ambiente del comune di Pagani, Gerardo Palladino. Certo, le difficoltà non mancano in Regione Campania e l'emergenza sembra sempre dietro l'angolo, ma nell'ultimo periodo, grazie anche alla Pagani Ambiente, sottolinea il delegato alla tutela ambientale di Palazzo San Carlo, le cose sono nettamente migliorate. Siamo in una situazione abbastanza tranquilla, anche se l'attenzione resta sempre alta, perché i problemi a livello regionale, provinciale, per quanto concerne il secco indifferenziato, ci sono ancora e purtroppo ci fanno stare sempre in pensiero, perché i problemi sono all'ordine del giorno e quindi dobbiamo stare sempre, come si suol dire, sul pezzo. La pulizia delle scale, delle sedute in marmo di Villa Comunale, di Piazza Auditorium, di Piazza Sant'Alfonso era una cosa che non si vedeva da un bel po' nella nostra città e quindi abbiamo ritenuto, di concerto con la Pagani Ambiente, di far eseguire questo tipo di lavaggio straordinario. Questo tipo di servizio poi, nelle prossime settimane, sarà calendarizzato, anche con una pulizia accurata, anche per quanto concerne i marciapiedi comunali, pulirli finalmente ed igienizzarli in modo definitivo anche dalle deiezioni canine che giacciono sui nostri marciapiedi. Per quanto concerne poi l'aspetto dei cassonetti che sono in arrivo dalla Regione Campania e dall'articolo 45, ex articolo 45 del programma straordinario, siamo stati proprio alcuni giorni fa in Regione Campania per chiedere di persona lo stato dell'arte e quindi ci hanno rassicurato in merito alla consegna del materiale da parte della Regione e ormai siamo in dirittura d'arrivo. Stanno già iniziando a consegnare in alcuni comuni del Napoletano e arriveranno anche in provincia di Salerno. Chiaramente abbiamo un livello di differenziata che non è soddisfacente, siamo attorno al 26-27%, quindi siamo ben lontani ancora da percentuali idonee per la raccolta differenziata. Stiamo già mettendo a punto una campagna di sensibilizzazione che dovrà partire con ogni probabilità tra settembre ed ottobre per incentivare il discorso sulla raccolta differenziata. In più cercheremo anche di fare in modo che il Comune di Pagani vada nel giro di un annetto a migliorare per quanto concerne il sospetto perché è automatico, più si differenzia e più scende la quota del secco indifferenziato e meno sarà il disagio quando si verificheranno queste situazioni emergenziali.